Giunto alla quinta giornata, il campionato allievi elite propone il big match tra Savio e Ladispoli. I blues di Bolic scendono in campo con Gabriele Mancini tra i pali, Moretti, Scartocci e Scorzoni in difesa, Sebastianelli, Ingrosso, De Masi e Calpogna a centrocampo, Nicoletti, Daniel Mancini e Canepa in attacco. Rispondono gli ospiti di Mister Micheli con Salvato tra i pali, Minotti, Lamorgia, Mignanti e Maroncelli in difesa, De Fazzi, Quinti e Manzari a centrocampo, Enasuei, Pranzetti e Me in attacco. Salvato sfodere il primo intervento da paura dopo soli tre minuti, quando alza distinto in corner la volè di Scorzoni su suggerimento di Scartocci. Appena gli ospiti riescono ad uscire dal pressing avversario, colpiscono. Al decimo, Pranzetti prolunga in verticale per Mei, che al volo beffa Mancini con una palombella di Van Basteniana Memoria e poi va ad esultare insieme al proprio portiere. La delusione Blues per il gol subito si unisce alle proteste per un fallo di mano di Manzari, reo di aver bloccato con il gomito la punizione di Demasi al ventesimo. Due giri di lancette più tardi, la torsione di Canepa sembra essere quella vincente, ma Salvato, aiutato anche dal palo, evita il gol. E poi lo stesso numero uno, Tirrenico, ad opporsi con i piedi sul tiro cross di Capogna, direttamente da corner. Il Savio fa la partita e la Dispoli prova a pungere in contropiede, proprio come accade al ventottesimo, quando Mei viene murato da Scorzoni al momento di calciare. Se è vero che al trentanovesimo i padroni di casa devono nuovamente fare i conti con Salvato e con il palo sul colpo di testa di Ingrosso, due minuti dopo, e anche l'imprecisione ad impedire a Daniel Mancini, imbeccato da Scorzoni sul filo del fuorigioco, di inquadrare lo specchio. Il light motive non butta della ripresa, in avvio Salvato si oppone prima sul tiro ravvicinato di Canepa e poi con i piedi. Respinge la conclusione di Capogna, da posizione defilata. Ancora più provvidenziale l'intervento che il portiere ospite tira fuori al nono, quando respinge il tocco di prima di Daniel Mancini, abile ad anticipare i difensori sul cross rasotera di Moretti. Dopo tanti tentativi, la squadra di Bolic acciuffa il pari al ventunesimo. Scartocci raccoglie una corta respinta della difesa ospite e colpisce la traversa sulla ribattuta. Salvato non può nulla, perché Matteoli è il più lesto di tutti a gonfiare la rete. Il Ladispo li accusa il colpo, ma ha il merito di saper soffrire e con il passare del tempo spegnere l'euforia blues. Al trentaseesimo, Manzari si ritrova al limite dell'aria, ma non sfrutta il tre contro due e calcia malamente in porta. Nel finale entrambe le squadre hanno la chance di vincere. Al quarantesimo, ancora salvato, sbara la strada Canepa, ma non è da meno un minuto dopo il suo collega Gabriele Mancini. Il portiere blues sventa la minaccia e la conseguente beffa, chiudendo lo specchio della porta in uscita. Aenasuei, lanciato a rete, finisce 1-1 a via norma. Al triplice fischio, tutte e due scendono dal podio playoff, ma chi può ritenersi soddisfatto del risultato finale è solo il Ladispoli. Super protagonista, salvato, che attacca due calamite ai guantoni. Il Savio capisce che non è giornata e non può far altro che accontentarsi di un punto. Grazie. Grazie.